Le parole shock del Papa ai preti, dovete essere pastori, non funzionari. Il Papa ha ripreso il suo tour nelle parrocchie alla periferia di Roma, facendo tappa a Sant'Enrico nel quartiere di Casalmonastero. Questa è la quarta visita di Francesco in questi mesi, dopo altre chiese come Santa Maria della Salute a Primavalle, Santa Maria Madre dell'ospitalità a Villa Verde e San Giorgio ad Aciglia. Questa iniziativa di incontrare i sacerdoti fa parte del tour nella sua diocesi avviato da settembre 2023.La parrocchia di Sant'Enrico, costruita tra il 1997 e il 1998, si trova nella undicesima prefettura della diocesi, nel settore nord. Nonostante sia un quartiere caratterizzato da un senso di incurie e abbandono, la parrocchia rappresenta un centro di aggregazione per le famiglie della zona. Durante l'incontro, Papa Francesco ha dialogato a porte chiuse con 35 sacerdoti e diaconi della prefettura su vari temi pastorali. La presenza dei cappellani di Re Bibbia ha permesso di affrontare il tema delle difficoltà nelle carceri e l'importanza del lavoro e dello studio per il recupero dei detenuti.Francesco si è mostrato commosso dalla testimonianza dei sacerdoti che operano, in prima linea e con grande pazienza, nonostante le sacche di povertà. L'incontro è stato definito molto bello dai presenti, che hanno apprezzato l'ascolto e le risposte del Papa appunto all'uscita. Il Papa ha salutato i fedeli che lo attendevano sul sagrato, stringendo le mani, benedicendo i bambini e lasciando un segno di affetto verso la piccola Chiara, affetta da problemi all'udito. La visita di Francesco a Sant'Enrico è stata un momento di speranza e incoraggiamento per la comunità, confermando la sua vicinanza alle realtà più periferiche e bisognose.